Questo weekend sono stato allinato perché c'era un evento enorme, due giorni pieni di cose da fare. Praticamente l'agenzia per cui lavoro da diversi anni mi ha contattato chiedendomi Senti abbiamo organizzato questo mega evento, vuoi essere il fotografo ufficiale? Ok. Quindi ho preso e sono andato. Ora dovete capire che quando dico che era un grande evento, era proprio un evento grande. 250.000 persone, sono tantine anche solo da pensare. Perciò mi hanno chiesto di documentare questi due giorni nella loro totalità. All'interno di queste giornate c'erano un sacco di cose. Innanzitutto c'era la street food che durava dalla mattina fino alla sera. Tanti micro eventi nei vari stand perché c'erano tantissimi stand diversi. E poi un evento focale sul quale ruotava tutta la giornata. Il sabato era la giornata delle prove, delle frecce tricolore, ma soprattutto della rock in mille. Mille pazzi furiosi fuori di testa che sono tutti insieme all'unisono della musica rock. Bellissimo. Invece la domenica si sono esibiti diversi piloti di aerei, aeroplani, elicotteri e a chiudere ovviamente le magiche frecce tricolore. Tutte le giornate però erano appunto scandite da tantissimi piccoli eventi in tantissimi piccoli altri stand che anche da cercare non era mica tanto facile. Perciò ecco visto che ho fatto questo lavoro e già l'ho consegnato pensavo di darvi una decina di consigli così una manciata al volo che magari possono servirvi e tornarvi utili se anche voi vi ritrovate a gestire un evento di grande portata. Bene, come prima cosa anzitutto chiedete bene informazioni su cosa vogliono. Non è scontato, non è scontato. Soprattutto in eventi così grandi voi dovete capire di cosa ha bisogno il cliente perché potrebbe essere non esattamente quello che voi vi aspettereste. Perciò la prima cosa che ho fatto è stata prendermi del tempo per fare un briefing e ho un po' insistito perché comunque loro erano presissimi da tantissime altre cose. Immaginatevi un evento così grande, la portata che ha, quante cose ci sono, però è anche stato utile appunto sedersi almeno una ventina di minuti a capire quali fossero le loro esigenze. Quindi alla fine siamo arrivati a questo accordo. Loro volevano che io documentassi un po' tutto l'evento ma soprattutto che mi concentrassi sul cibo, le persone e i due grandi eventi. Quindi la Rocky 1000 e le frecce tricolore. Ma senza dar loro troppo spazio perché in realtà interessava più il contesto. Visto che loro erano gli organizzatori, volevano far vedere come era avvenuto l'evento, le persone, insomma tutto questo ambito. Perciò è stato fondamentale appunto sedermi e fare un po' alla lista delle priorità. Due. Sulla base delle loro priorità ho preparato l'attrezzatura e anche qui non è affatto scontato. Io per esempio, come sapete benissimo, mi viene un po' l'orticaria solo la parola zoom, però me ne sono dovuto procurare uno. Senza sarebbe stato davvero molto difficile, anche perché loro non sapevano dirmi esattamente dove, come mi sarei potuto muovere, non sapevano esattamente quali fossero le distanze e perciò capite bene che con la mia attrezzatura, io ho un 28, un 35, un 50, un 85, senza uno zoom più lungo sarebbe stato davvero difficile poter catturare dei momenti. Perciò mi sono fatto prestare il 70-200 F4 e sono andato con quello. Inoltre per l'evento io ho deciso di andare con due macchine al corpo, che è stata diciamo una scelta un po' sopra le righe, perché comunque camminare tutto il giorno con due macchine addosso, vi assicuro che risulta un po' stancante, però una macchina avevo montato il 35 mm che è molto leggero e quindi quasi non lo sentivo, dall'altra avevo il 70-200 che però spesso tenevo con una mano, quindi diciamo che più o meno il peso si è distribuito. In questo modo avevo un'ottica per fare le foto magari di gruppo o alle persone e con l'altra invece potevo fare più dei ritratti da lontano oppure più il contesto, preso sempre da un punto di vista piuttosto distante, ecco. 3. Strutturarsi una tabella. Anche questo è fondamentale. Una cosa che ho chiesto è di avere più o meno il programma della giornata, perché in uno spazio così ampio, e vi ripeto 250.000 persone, non so se a casa vostra ci stanno ma a casa mia no, per percorrerlo tutto ci saranno voluti 40 minuti da una parte all'altra. Quindi capite che se io mi fossi trovato in un posto mentre c'era un evento importante in un altro, sarebbe stato disagevole. Perciò mi sono fatto dare una tabella con tutti gli orari, ho cercato di chiedere e capire quando c'era qualcosa di importante di modo da potermi far trovare lì quando ne avessi avuto necessità. 4. Questo è fondamentale. Fare prima le cose a scadenza. Cosa intendo? Spesso negli eventi ci sono cose che accadono in un momento preciso e altre che invece ci sono un po' per tutta la giornata. E dei momenti a scadenza, cioè che duravano magari poco, e che o prendevo lì o non prendevo più. Per esempio, quando sono passate le trecce tricolore, dovevo prenderle in quel momento. Non è che dicevo, scusate ragazzi, non ho fatto lo scatto, potete ripassare per favore? Non avrebbe funzionato. Oppure durante la rock in le prove dovevo essere lì per fare degli scatti a loro. Insomma, l'importante è capire quando dar la priorità e soprattutto esserci quando c'è quella cosa importante. Fondamentale. Anzi, se proprio devo dirla tutta, è meglio arrivare prima, posizionarsi con un attimo di calma, che si sa mai che poi gli orari sono sempre un po' ballerini. 5. Vi parlo un po' delle impostazioni della mia macchina. Allora, io ultimamente scatto sempre più o meno lo stesso modo, perché per il genere fotografico che faccio, che è prettamente reportage, che si tratti di matrimoni, piuttosto che di ritratti all'aperto, o anche come in questo caso, appunto, eventi, più o meno, diciamo, il contesto è diverso, ma la solfa è uguale. E devo dire che ho trovato una serie di impostazioni davvero fantastiche. Quali sono? Lavoro in priorità diaframmi, e il diaframma di solito lo tengo, se è F4, nel caso del 70-200, spesso lo tenevo a 4. e invece per quanto riguarda il 35 lo tenevo a F2, F2, F2. Poi dipende, magari se c'erano dei gruppi, chiudevo un pochino di modo da far sì che fossero tutti a fuoco. Perciò, priorità diaframmi, così faceva tutta la macchina e ciao Peppo, e ISO automatici. Ora, io ho una macchina che mi permette di scattare ISO altissimi, senza grossi problemi, quindi io tenevo di minimo un 250esimo, quindi la macchina non poteva scendere sotto un 250esimo, e quando ne aveva la necessità, avrebbe dovuto alzare gli ISO, fino a un massimo di 6.400, mi pare, forse qualcosa in più anche. Con la A7-3, per il lavoro che dovevo fare questa volta, erano le impostazioni ideali. Di solito ottengo un 125esimo, con i matrimoni per esempio, posso avere un tempo anche un po' più lento, mentre invece capite bene che durante un concerto, o comunque durante qualcosa di molto dinamico, preferisco congelare meglio la scena, e quindi un 250esimo era meglio. Comunque, al di là delle impostazioni, per me in generale, l'ideale è sempre lavorare in modo veloce e scattante. Soprattutto negli ambiti in cui succede qualcosa molto velocemente, io devo essere pronto. E su questo purtroppo devo ammettere che la Sony A7-3 mi aiuta davvero tantissimo. 6. Riprendere la felicità. Cosa intendo dire? Ci sono lati tangibili, tipo una birra, piuttosto che un panino, delle persone. Queste sono cose tangibili, ma la realtà è che le persone che mi hanno commissionato questo lavoro, si aspettano che io dia a loro un lavoro che parli di felicità. Perché oggettivamente le persone a un evento così vogliono divertirsi e loro vogliono far vedere che la gente si divertiva. Non è così scontato. Io spesso ho visto foto di eventi in cui sembrava una cosa triste, che le guardavi e dicevi sì, la foto è fatta bene, ma io in un posto così non ci andrei mai. Invece l'idea con la quale io ho lavorato è stata sto documentando un evento in cui c'è della gente che si sta divertendo e quindi voglio documentare il divertimento e l'allegria. Da non prendere sotto gamba. 7. Vicino al punto di prima c'è questo che è leggermente diverso, ma secondo me è altrettanto fondamentale. Per me è assolutamente efficace riprendere piccole gestualità, piccoli dettagli, piccoli contesti, cose che magari una persona che è venuta all'evento non ha vissuto perché essendo così grande magari qualcosa si è perso. Ma dei piccoli dettagli, delle piccole cose che rendono particolare la giornata è fondamentale riprenderle e riportarle. Perché sono la serie di piccole cose che rendono speciali un evento. Perciò in questo caso quello che ho fatto io è stato camminare tantissimo. Ho fatto tipo 50.000 pass in due giorni. Cioè praticamente devo cambiare le scarpe. Però perché l'ho fatto? Perché volevo star lì a indagare in ogni piccolo stand, in ogni piccolo angolo se c'era qualcosa di interessante e poi insomma catturarlo con la macchina fotografica per poi avere un documento che rappresentasse più o meno tutto. 8. Stare sempre pronti. Anche questo non è per niente scontato. Infatti quando lavori per molte ore tendi ad abbassare un po' l'attenzione. Invece bisogna sempre stare con le antenne dritte. Infatti è capitato più di una volta che ci fossero degli eventi istantanei, divertenti che se non avessi colto in quel momento difficilmente sarebbero ricapitati. E quindi anche nei momenti in cui magari stai facendo una traversata da una parte all'altra oppure semplicemente stai cercando un attimo di capire come orientarti comunque sempre antenne ben ritte perché le piccole cose accadono accanto a noi e dobbiamo essere pronti a coglierle. 9. Considerare le luci. Fondamentale questo. Ragionate sempre con l'ottica di dire alcune cose posso farle adesso perché poi se cala la luce qui cambia tutto. Per esempio non so le foto alle persone mentre mangiavano le ho fatte quando ancora c'era luce perché sapevo che se avessi procrastinato la cosa la sera poi avrei trovato una luce diversa. In più considerate anche che spesso la sera ci sono un sacco di interferenze di luce e quindi è più difficile lavorare. Io poi quasi mai uso il flash in questi eventi non perché non mi piaccia ma più che altro trovo scomodo doverlo usare staccato dal corpo macchina perché a mio gusto è l'unica cosa che funziona in un ambito aperto scattare con il flash staccato dal corpo macchina però questa cosa la trovo molto scomoda e invece trovo molto più comodo sfruttare le luci dei track quindi cosa faccio? Se devo scattare una coppia la porto vicino a un track il track è di spalle a me la luce che emana va contro le persone che sto fotografando che sono illuminate da quella luce quindi per me è molto più semplice a scattare. Però comunque la sera subentrano tante difficoltà perciò attenzione Ovviamente quando scattate i concerti ho fatto già un video che riguarda questo ci sono diversi consigli potete andarvelo a vedere ve lo lascio qua sopra lì ci sono tantissime cose a prendere in considerazione e le luci sono davvero difficilissime da gestire Secondo me la differenza tra una buona foto e una foto venuta male in quel contesto più che mai sono le luci e il tempismo 10 Siamo arrivati alla fine L'ultimo consiglio che vi do è semplicemente scattate tanto avete possibilità di farlo? fatelo piuttosto usate poi un programma veloce per la selezione delle foto come faccio io ma scattate tanto appena vedete qualcosa di interessante scattate male che vada poi dopo lo cancellate però voi dovete avere tanto materiale anche perché spesso se non conoscete bene il vostro committente potrebbe darsi che vi chieda cose che per voi magari non erano importanti ma che per lui erano fondamentali quindi mi raccomando scattate tanto coprite tutto l'evento fate tanti dettagli fate tanto contesto fate vedere che c'è tanta gente perché quello è importante e in questo modo insomma avete un prodotto di cui il vostro cliente sarà felice e per questo vi richiamerà e per questo mi ringrazierete bene questi erano i 10 consigli spero che possano essere stati utili ringrazio steve per avermi mandato la clip video che sono al bacio vi lascio qua sotto il suo link potete andare a vedere tutti i suoi lavori che sono davvero fantastici spero che vi siano piaciute anche le foto che avete visto nel durante e noi ci vediamo qui presto con un nuovo video ciao 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 ciao